Quella cosa lì non si dice e non si può fare, non si può neanche pensare. Quando ero piccolo mi hanno insegnato che c'è un'altra vita oltre questa, che in questa non devo chiedere e non devo pensare. Dopo morto avrei avuto un ricompenso delle punizioni. Non correre, non ti buttare per terra, non sudare, non ti sporcare le mani, non ti bagnare, è buio, non uscire. I cani non si toccano, colore il disegno, ma non uscire fuori con il colore. Come stai? Bene, grazie, e tu? Rispondi, 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 rispondi. Siediti composto, poi pensa composto. Se sta scritto, se lo dicono tutti. Deve essere così.